ciao a tutti oggi vi spiego come funziona la modalità pulsato andiamo a impostare il grafico del pulso che è fatto di frequenza massima e frequenza minima e ci sono ovviamente della saldatrice con una scala solo di frequenza sarebbe l'1b che sono molto facile di altre saldatrici da regolazione basta mettere il battito del pulsato che programma da solo in automatico invece qua la frequenza collegata con i secondi le f con 1b a questo punto impostiamo il battito a 6 e non lo tocchiamo più regolando il tempo della puntatura sarebbe la frequenza che viene regolata da 0 a 25 secondi e per fare una prova mettiamola a 6 secondi e virgola 3 tornando a regolare la frequenza schiacciando sempre il pulsante rosso e andiamo a diminuire i secondi della frequenza e la mettiamo a 3 secondi virgola 4 e poi vediamo il video proviamo a diminuire ancora a un secondo punto 4 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info proviamo ad alzare la frequenza sarebbe i battiti di secondi a 20 secondi adesso proviamo il massimale di frequenza sarebbe il 25 secondi attrazione 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 Grazie a tutti.